La Magneti Marelli di Sulmona non esclude uscite incentivate a relazioni 100 esuberi previsti per la prossima annualità 2024. A darne notizia il sindacato UGL Metalmeccanici Marelli di Sulmona che ieri ha partecipato alla riunione con l'azienda nel corso della quale sono stati confermati gli aumenti di produzione fino al 31 dicembre. Nonostante si preveda che il volume produttivo possa raggiungere un picco massimo di 1180 furgoni al giorno, rimane alta l'attenzione per i 100 esuberi previsti per l'anno 2024 dall'azienda che comunque non esclude la propria disponibilità a favorire uscite incentivate anche in riferimento alle posizioni impiegatizie spiegano dal sindacato continueranno i confronti con l'azienda in merito all'organizzazione e relativi piani industriali fiduciosi di una migliore contingenza.